POSSIAMO PARLARLE? FATEMI INDOVINARE. HA FATTO UNA DELLE SUE PAZZIE. SPINGIMI ANCORRE TI SPEZZO L'OSSO DEL COLO. BENVENUTO NEL BUS DAI PAZI. MECENN. LEBRASCA WILLIAMS. Quello è Coyle, lui è Lynch. Siamo mercenari. Tu perché sei qui? Non penso che mi crederesti. Avanti, amico. Ok, mi sono imbattuto in un alieno. SPARATENI! Oh, cazzo! Questo tizio è il più pazzo di tutti noi messi insieme! Chi cazzo era quello? È lui che ha ucciso i miei uomini. ALIENO. ALIENO. Predatori. Sfruttano le debolezze. Traccia la sua preda come un gioco. Sembra che si diveta. Non è un predatore. Caccia per sport. Beh, è già deciso. Predatore è più figo, giusto? Sì. Sì, cazzo. Avete un piano. Un ex cecchino con DPTS e una squadra di pazzi. Siete malatti, vero? Sì! Signori, sono grandi. Sono veloci. E spaccarci il culo è il loro sport preferito. Io ho capito una cosa. Penso che moriremo. Ve lo volevo dire. È un cacciatore. Si è portato i cani. Avanti! The Predator. Al cinema.